Musica Bella raga e Bella raga Che intro de merda Non lo so raga Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Della trendrogia E Sto malissimo Non so se si sente gialla dalla voce Ho il naso tappato Cambio stagione, raffreddore, morte Faccio tutto il terminator e poi quando viene il cambio stagione Stagione Oh seriamente ragazzi Sto malissimo Non so perché Probabilmente sarà sicuramente il cambio stagione Però stavo un po' qui nerdando sulla tecnologia E stavo un po' dando un'occhiata Al criceto che rompe il cazzo come al solito con la ruota Io start a registrare ragazzi, questo ho dormito tutta la notte I criceti sono attivi di notte Questo ha dormito tutta la notte Non ha fatto un passo, attacca a registrare E gira sulla ruota Io non so che cazzo di problemi ha Ma per me me lo fa apposta Sono sicuro Ormai non c'ho dubbi ragazzi Tutte le volte che registro Che cazzo era Ok Oh Ma che cazzo Ragazzi ho il pc impazzito Ok fa dei rumori strani che non capisco Facciamo ruotaie normali Speed data, normali Tante ruotaie normali Bam uno stack Bam un altro stack Un altro mezzo stack Ok Allora ragazzi ho finito le ruotaie Hard Avete presente che io vi stavo dicendo che voglio fare queste ruotaie Esatto E le ho tipo utilizzate tutte Le ho fatto un macello E le ho finite perché devo fare con queste Andate e ritorno Non posso fare un solo binario Perché altrimenti i trenini Cioè i carrettini Si scontreranno uno con l'altro Faranno face to face You can see me E si daranno delle trambate in faccia E non andranno più avanti Quindi in teoria si esatto Dovrei fare una cosa del genere Dovrei fare andata e ritorno Senza dubbio Quindi Quanti cazzo di accelerazione ci ho messo qui Oh mio dio Quanto devono correre questi carretti Sono carretti del cazzo eh Ah la velocità ragazzi Non è importante Ricordate Legge base Della geometria Della fisica Della meccanica Come volete Se devo portare un oggetto Da un punto all'altro Guardate bene Quindi devo portare la carboniera da lì Ed è più Di un kart Cioè ce ne sono vari Che girano sul circuito Tipo Facciamo una decina Per dire Non importa La velocità A cui arrivano Cioè non importa Che arrivino rapidamente Perché è un ciclo Un cerchio Gira in tondo Se ci fosse un solo kart Allora diresti Ah ok Il kart va a fare più fretta Se invece Oh Vaffanculo Se invece ci sono più kart Che girano in tondo Farli girare più rapidamente Servirebbe solo a intasare Tutto l'impianto Perché ovviamente C'è un tempo di carico e scarico Che non può essere Oltrepassato Quindi ci vuole un minimo Di attesa E questo minimo di attesa La recuperiamo Utilizzando binari lenti Così i carrettini arrivano Con calma Scaricano la roba Con molta calma e pazienza Il binario lento Dal tempo al carrettino Di scaricante E ho finito di nuovo I binari ragazzi Ne sto usando un casino Ma quello che ho finito Per di più È l'ossidiana Allora se avessi fatto Un query Sarei stato pieno D'ossidiana Dato che ho fatto L'ex nilo Non c'ho un cazzo Di ossidiana E la gente dice Che l'ex nilo È un cheat Il query è molto più cheat Se vogliamo mettere Da questo punto di vista Perché non ho ossidiana Non ho ossidiana E mi è uscito Nel metodo enchantato What the fuck Ah Adesso che ricordo Ragazzi Se ricordate bene Nello scorso video È nato il problema Creosoto C'è un po' di Raffreddore Di quello terribile Sfasciadenti Però Riesco a reggere Lo stesso e registrare Non so come Non me lo chiedete Madonna Certissimi giorni Proprio non è aria Per registrare Ho risolto il problema Del crosoto Guardate molto semplicemente Ho detto Ma farò qualcosa Qualche cosa Che lo trasforma Qualche situazione particolare Cambierò il craft Ho fatto ancora più semplicemente Ragazzi Guardate ho messo Creosoto dentro la crafting Mi dà il crosoto La raycraft Molto semplicemente ragazzi L'unico difetto che c'è È che quando craft Avanzano delle bottiglie di vetro Che sarebbe un cheat Perché la bottiglia di vetro Non dovrebbe uscire Perché la bottiglia di vetro Dentro il chemical trasformatore Ci darà il silicon di oxide Quindi è come se Duplicassimo una bottiglia di vetro Praticamente ogni bottiglia di creosoto Duplica una bottiglia di vetro È un po' un cheat strano Però ma chi cazzo Se ne è Chi cazzo proprio Come dice Insomma ecco Quindi io grazie a queste bottiglie di vetro E le slab Che ho fatto l'altro giorno Che non mi ricordo Do cazzo ho messo Io avevo fatto le slab Avevo fatto le slab Ok le faccio altre Un, due, tre Ok grazie alle slab Che feci l'altro day Ta-da E queste bottiglie di creosoto Posso fare wooden tile Però me ne servono ben quattro Quindi mi servono Sette Scusate non quattro Sette Perché sette è il numero E devo fare altre bottiglie di vetro Uuu Tre Ok arriviamo A quattro facciamo un bel Centro delle rotaie Si chiamano Rail tiles E possiamo fare il binario speciale Per il trasporto di oggetti What the fuck Report Cheater noob Avete presente qual è? Non lo conoscete? Ma ve lo faccio vedere Però ci serve anche un macchinario Oddio Un attrezzo Che ci permette di modificarlo Che si chiama crowbar Che Che sarebbe letteralmente Tradotto in italiano ragazzi Il piede di porco Abbiamo bisogno di un piede di porco Veramente Senza il piede di porco Non possiamo fare questa cosa Ci servono dei fiori rossi Per farlo C'abbiamo dei fiori rossi I fiori rossi servono a fare il manico Pensa Ci fanno sprecare del colorante rosso Per fare il manico del piede di porco Io ho fatto mortacci Cazzo da fan la vita Che roba Vabbè Però dettagli I vari passaggi Per fare ciò che mi serve È molto semplice Prima di tutto Dobbiamo fare delle standard rail Standard Che si fanno mettendo il ferro così Vedete Tipo a rotaie Proprio binari Basta mettere il ferro a binari E otteniamo Le rotaie standard Poi dobbiamo prendere Le rotaie standard prodotte E metterle con la redstone E l'oro In questo ordine Non potete sbagliare l'ordine E otteniamo le advanced rail Advanced rail Ci permettono di creare Controlli redstone Particolari Situazioni Gestione E cronometri Attivatori Capito? Quindi ci crea Delle situazioni particolari Che noi possiamo sfruttare 6, 12, 18, 24 Sono già troppe 24 Più 6, 30 Già sto sgarando Vabbè Facciamo una quarantina Facciamo 48 Guarda 48 Così sono precise Per fare tanti craft E ci basteranno Per una vita O non hai idea Per quanto tempo basteranno Ok fine Perfetto 48 binari Sono molto più che sufficienti E adesso vado a una crafting E posso craftare Tadà Ah no Mi manca una pressure plate Che si fa con due stone Roba vanillosa Se non sbaglio Volà Volà E volà Eccole qui Locking track Ragazzi Ne abbiamo 16 E adesso vi spiegherò Il loro rapido funzionamento Però Prima vi serve un altro macchinario Ancora Che si chiama Loader E un loader Che sono questi qua ragazzi Advanced item loader Advanced item loader Si fanno con 4 acciaio Pala d'acciaio E vanno Invertiti Vedi Sono la stessa cosa Cambio cazzo Cambia Quello da cui vengono creati Che sarebbe L'item loader Guardate un po' L'item loader Si fa con la tramoggia E il detector E L'item Un loader Che serve questo Si fa con Vedete Il pezzettino Di red Il detector Sopra la tramoggia Quindi Tramoggia Invertito Capito Fico no? Nel frattempo Vorrei far notare Il mio inventario Pieno di rotaglie Cioè A te piacciono i treni? No Che a me Treni? What? What is this? L'inventario pieno di rotaglie Io non sto bene Quando Quando ragazzi Aprite l'inventario Di un giocatore E vedete che L'inventario pieno di rotaglie Uno comincia a farsi Qualche domandina Cazzo di problemi Capito? Cioè È normale Se vi viene questa domanda Quindi non vi fate Troppi problemi A farvela Ecco Cazzo di roba Allora Le tramoggia non c'entrano Vabbè Adesso mi serviranno Per fare il loader E un loader Anche se me ne servono parecchie Mi servono parecchi loader E parecchi unloader Perché più ne ho E più posso scaricare E scaricare allo stesso momento Quindi sarebbe tipo Industriosità Quindi più ne aggiungo E meglio è Ovviamente Quello che vado a creare ora È tutto temporaneo Perché andrà spostato Sapete come Questo lo so fare Si fa con il legno Guardate ragazzi A questo io mi ricordo Le recipe dei vecchi tempi Legno e pressure plate Bam Guardate Uno, due, tre, quattro Ne faccio sei Otto Intanto c'è non lo stack Ecco Si fanno con legno e pressure plate Guarda un po' Mamma mia Bester membranze U Ok Mi serve anche del ferro Perché devo fare altre tramogge Perché queste decisamente Non bastano E mi servono anche Anzi Anche ancora ferro Ok E mi servono anche delle ceste Perché i tramogge Si fanno con le ceste Quindi facciamo tramogge Oggi ragazzi crafting Oggi theory crafting Ok Facciamo uno, due, tre, quattro, cinque Bam Otto tramogge E con queste Otto tramogge Andiamo a creare Questo Ah manca la stone Tanta, tanta stone Uno stack Ah Non sbagliamo Aspetta Non so se è ritrasformabile poi Perché una volta lo era Ma ora mi sa non più Vero? No Ok Devo stare attento Devo fare quattro No È più importante Caricare o scaricare Allo stesso modo Quindi facciamo Quattro Un loader E quattro loader Non ci sbagliamo Uno, due, tre, quattro Ok Quattro loader Vedete ragazzi Il loader ha il buco sotto Vedete come è fatto? C'è l'uscita da sotto Perché carica no? Carica sul carrello E l'un loader L'entrata da sopra Vedete? Perché scarica Questo butta nel carrello E questo prende dal carrello Capito? Un sistema di passaggio Da carrello E tubi Quindi possiamo creare Un'automazione ferroviaria Di quelli What the fuck Che l'am track Mi fa Capito? Mi chiama e fa Ti prego Vi unisci a insegnare A fare queste cose Capito? Il direttore dell'am track Mi fa Vedete che cos'è l'am track? Forse no Vabbè dettagli Ok mi serve Quindi Oh lo sto usando tutto l'acciaio No mi serve un po' No L'ho usato tutto Devo produrre altro acciaio Sono un cojones Cojones Però ne ho un po' Ne ho un po' da parte Ok niente Cazzatella 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 Sì però io voglio l'acciaio Che si cuoce Non la sto No io voglio l'acciaio Scusami eh Scusami eh Ok cuoce l'acciaio Grazie Grazie Gentilissimo Guarda quando sei così gentile Non ho nulla da dire Oh acciaio Bene 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 Devo fare le pale Di acciaio Mi dobbiamo mettere a fare le pale io E mi sa che non è nemmeno auto installabile Perché devo metterle a mano Capito? Perché sono pale Vediamo se va il craft Non va Punto Devo farlo manuale Cioè what the fuck Perché essendo una pala ragazzi Gli oggetti che non staccano Hanno dei problemi Con la ney Non gli piacciono E mi manca la redstone Lo sapevo Sempre così Sempre così Craftiamo sto coso Che già ha rotto le scatole Com'era craft? Eh già Eh già Eh già ragazzi Ho finito i materiali Ah sta facendo giù Pensavo stessi facendo notte Dice what? Era la notte adesso Allora mi sono messo tutte le rotaglie Non le zanette Perché così sono più ordinate Che carine E dovrei avere i materiali Per non ho cazzo Sì ce li ho Ok Allora Cosa voglio fare adesso Dobbiamo creare un sistema Che carichi la roba E la porti in centrale Molto facile Tramite gli unloader E i loader E gli unloader Allora io ho fatto gli advanced Effettivamente se guardate ragazzi L'advanced è rivolto di lato Perché? Perché l'advanced Ha la particolarità Di poter rivolgersi Dove vogliamo noi E si può girare Tramite piede di porco Che io ancora non ho fatto Perché non trovo fiori rossi Guardate fiori gialli Fiori gialli Fiori tutti fiori gialli Ovunque mi giro Ci sono fiori gialli Fiori gialli lì Fiori gialli qui Laggiù guardate Fiori gialli Non ci sono fiori rossi Io non so che è problema mio Adesso li andrò a cercare Speriamo che troverò del rosso Mortacci vostra Non è possibile Oh È un fiori rosso? Sì Ho visto due fiori rossi raga Però sono solo due Me ne servono quattro Avete visto che ne esce solo uno Di colorante Guardate che figata È bella però eh Cioè non è così bruttissimo Dai Cioè ci sta Cioè posso migliorarla ancora Può venire più carina Però ci sta Dai guardate È bella è bella è bella Che esce tipo così Ok sto muro forse è un po' esagerato Potevo rilassarmi un po' Però guardate che figata C'è un po' quasi sta Adesso aggiungerebbe le finestre lì alte Tipo industria Fabbrica E mettere tipo una ciminiera Un cammino Qualcosa Vediamo Fiori rosso Fiori rosso Fiori rosso Altri fiori rossi Bella Due Tre Manca uno Ma ti pare che io dovevi Servire nel mondo Più tecnologico dell'universo E mettermi a raccogliere I fiori cazzo Manco Heidi Con il nonno delle pecore Mannaggia Chi cazzo Quattro Ok Quindi dobbiamo Vogliamo fare questa crowbar Così Fatta Ok In turnio questa crowbar Dovrebbe girare E lo vediamo un po' se gira Guardate che figata Lo possiamo girare dove vogliamo Basta Cliccare con la crowbar Sulla faccia Dove lo vogliamo Vedete Lo voglio mettere qui Lo voglio mettere qui Lo voglio mettere sopra Basta cliccare Con la crowbar Sulla faccia Dove vogliamo girarlo E' molto faico Possiamo creare Impianti molto faichissimi Dipende in base Capito Secondo dell'impianto Che noi abbiamo Come dobbiamo gestire I macchinari eccetera eccetera Possiamo cambiare le impostazioni Allora Cosa devo fare adesso Devo togliere questi cavi dal cazzo Metterli sotto Perché ovviamente Qui adesso passeranno i binari E dare una bella sistematina Sì sì Assolutamente Allora 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 Dato che la nostra produzione Di carbonella È esattamente qui Riesco a girare questo coso No Ok Dato che la mia produzione È esattamente qui Io potrei fare una cosa del genere Guarda un po' Portare Un tubo Che arrivi qui E qui mettere Un loader Wow Cioè Nulla di più easy peasy Adesso Entra in gioco Il super binario Quello speciale Quello che Questo qui Lock in track Lo mettiamo qui E guarda un po' Cosa di particolare Un cazzo di niente Sono d'accordo Non ho un cazzo di niente particolare Perché devo usare questo binario Perché questo binario Messo in combo con niente Mi servono i binari normali Grazie Ok Questo binario Messo in combo con l'item loader È un loader Ecco Ma se è un cazzo di niente Aaaaa Va a piacere Ok Dicevo Questo macchinario Messo in combo con L'item loader Ha una funzione particolare In questo caso La funzione che a me serve Di attivare È quella Della holding No Della Questa qui Non mi ricordo Non mi ricordo Se è la holding No È la Oddio Che mi viene il nome Non voglio spoilerarmelo Lo scopro Lo so È la È la holding È la Non è la stopping È la Non mi viene Ok scopriamolo insieme La boarding Ah non era la stopping Era la boarding Fanculo La boarding mod Ragazzi Quella che interessa a me È la boarding mod Mi servono dei servo Per tirare fuori la carbonella Però Effettivamente Senza servo Ok Estraiamo la carbonella E dovremmo vedere Tutta la carbonella Che va qua dentro Ovviamente Non sbagliate la faccia Ragazzi Se lo rivolgete Qua Siete Ricordate La faccia rivolta Verso dove dovete caricare Vediamo un po' se arriva Il carbonella Non lo vedo arrivare Carbonella Eccola qui Carbonella arriva A 16 alla volta Potrebbe arrivare di meglio Ma Ma contento Insomma E adesso Quello che devo fare io È caricare un kart Con una chest Guardate un po' Prendo un kart Metto una chest Kart e chest Bam Cert kart chest Chest kart Cert cast Ho detto Non so che cazzo E adesso io Magicamente Ipotizziamo Che il kart arrivi qui Guardate che succede Il kart arriva Si blocca sulla holding Comincia a riempirsi Guardate un po' Non appena Guardate un po' Si sta riempiendo Non appena la carbonella finisce In teoria La devanced item loader Dovrebbe mandare un segnale redstone Che fa partire il kart Vediamo che succede Sono curioso Adesso guardiamo 3 2 1 Dovrebbe partire il kart Bam Avete visto? E' sfigata È partito il kart Dopo che l'item loader Ha finito la carbonella O riempie il kart Ci sono due opzioni In inventario O il kart si riempie E l'item loader Manda un segnale redstone Che fa partire il kart Vedete se è partito automaticamente Ovviamente è bloccato Perché non c'è segnale redstone Su queste rotaie Non sono come l'high speed Eh Questo è no redstone No move Cioè proprio stampato a terra Inchiodato Quello che devo fare adesso È arrivare lì in centrale E fare la stessa cosa Però al rovescio E qui Che cazzo voglio al rovescio Dovevo mettere gli item Unloader Eh? Esattamente qui ragazzi Dove adesso vado ad aggiungere Sì Questo è girato al rovescio Ok È bella l'acrobano Mi piace un sacco Allora vado ad aggiungere Questi item Unloader Ne metto uno qui Ad esempio Oh molto shallow Qua Sto scegliendo il punto giusto Questo item Unloader Adesso riceverà I kart Semplicemente Scaricherà la roba Allo stesso modo Con cui l'ha caricata di là E basta mettere Un'altra holding track Allo stesso modo ragazzi Perché quando arriverà Il kart E Avrà svuotato il kart Rimanderà Segnale Nel kart Riparterà E potrà tornare indietro Tranquillamente L'unica cosa che devo aggiungere Ovviamente Senza dimenticarci ragazzi Sono gli item duct Che portino all'interno Della fabbrica Ovviamente L'ingresso Io lo sto facendo qui Magari lo posso anche spostarlo Non è quello il problema Ecco qui Porta all'interno Della fabbrica E dovrebbero andare All'interno ad esempio Di una chest Che poi faccia Uno smistamento avanzato Che poi ve lo faccio vedere È avanzatissimo Quindi adesso non è il momento Raga Questo video è dedicato Agli item loader E un loader E salviamo un tender culo Ok Allora ragazzi Quindi Tutto quello che ho creati adesso Permette di automatizzare Il trasporto di carbonella Alla centrale E come posso vedere ciò Non posso al momento Perché ci vuole Un'altra cosa più complessa La soluzione è molto semplice Faccio partire un kart E metto la mia Quanta roba da fare È una cosa lunghissima E non finisce mai Però è fighissima Perché mi piace un sacco Questa roba E quando sarà completa Sarà molto faga Quindi la maggior parte Le cose le farò off camera Quindi ragazzi Questo video ho spiegato La advanced item loader La advanced item loader Spero l'avete capito Come funzionano Caricano e scaricano oggetti Li vedrete in funzione presto Perché io adesso Finisco la seconda ferrovia Metto segnale redstone Sotto ognuno di questi Perché ovviamente Devo sfondare Mettere redstone Tappare Ci vuole un po' di tempo Ci vuole un po' di pazienza Adesso lo faccio con calma Senza impegno Quindi ragazzi Ci vediamo domani E alle 6 come sempre Non perdete il prossimo video La tecnologia Che faremo tante belle cose E diventeremo I più potenti del mondo A fare le mod Non vi preoccupate Adesso faremo tutte cose fighe Che non fa nessuno Così tutti belle Che belle Le rotazioni Mamma mia che mod Dimenticata Che però c'hai contro Mod contro coglioni Però un po' abbandonata Ecco Continuo a sfasciare tutto Io nel frattempo Sì ragazzi Perché Devo 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 posizionare tutto Ragazzi Ciao a tutti Al prossimo video Guarda Non riesco a staccarmi Adesso me lo faccio tutto adesso Guarda un po' Ciao a tutti Al prossimo video Bye